Buongiorno a tutti ragazzi, allora questo è un video importantissimo, forse il video più importante del canale perché volevo comunicare che stasera a mezzanotte, dalla mezzanotte, sarà possibile fare il preorder della mia canzone che si chiama Welcome to my Moon ed è in collaborazione con il nostro producer Zeta Beats, anche detto This is Zeta Productions e niente, quindi volevo dire appunto andate a fare questo preorder perché ci stiamo lavorando da tantissimo, da più di due mesi è un lavoro importante dove comunque abbiamo anche messo spese importanti e niente, quindi andate a fare il preorder e mandaci le foto su Instagram in direct che poi non le ripostiamo voglio un sacco bene raga, Welcome to my Moon Ciao ragazzi, oggi mio fratello mi ha chiesto di girare un video con lui perché oggi, ovvero il giorno in cui registra i video e io invece prenderò Roma per 24 ore e mi preparo il peggio perché già so che si arrabbierà tantissimo ci vediamo dopo Welcome to my Moon guys, io sono Timone questo è l'albero di Natale che ho fatto io, non è vero questo è il mio canale wow allora ragazzi, che cosa andremo a fare oggi? oggi andremo a fare un video con Yayao innanzitutto, tutto sono bello lì eccomi se, se, specchio magico, questo è lo specchio magico bitch bitch andremo a fare il video con Yayao proprio lei, Yayao e niente, di che cosa si tratta il video? il video si tratta di... aspetta che non mi ricordo ah ok allora, il video è chi esce dal quadrato per ultimo vince mille euro eh sì, perché siamo poveri quindi non possiamo fare il video di mille euro perché sennò poi... basta basta salviamo anche il gatto lui è gatto miao amico di Yayao gatto miao niente regà, ora andiamo da Yayao ok, stiamo tenendo le scale va male il piede, va male il piede allora, andiamo a fare il piede Yayao Yayao andiamo a fare Yayao eccola Yayao mamma mia, bella si sta a vedere il video no, TikTok allora, Yayao devo fare il video Yayao Yayao oh, mi senti? queste cuffie sono pure rotte mi è stupida come dà le mie cuffie? grazie oh, devo fare il video oh, Yayao mi sta a far spiegare a tempo dai, ti muovi dai mi hai promesso dai oh mi sta a dar far sito oh, mi senti a fare il video oh, mi senti a fare il video no, mi senti a fare沒有 ma non sei ma posso devo andare a registrare il video oh oh, mira devo registrare il video di mani mi promesso ma allora, mi senti a fare il video Ilaria non lo vuoi fare più Allora noi gli spugniamo sul cuscino Ilaria Ilaria non lo spugniamo sul cuscino Vabbè non lo faccio veramente Vado Ilaria lo sai Ilaria Ilaria tu lo sai Il cuscino è proprio la tua casa più preziosa Niente lo posso manco toccare con le mani Guarda 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 l'aria Guarda lo bello spugnudo Guarda 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 lo guarda quanto è bello Oh mi è stata affastita Vediamo girare il video Dai Su Oh Non mi lascio più Vabbè raga Non me la va a convincere Tanto Mangiamo se è una caramella Eccola eccola Aspetta Eccola Ilaria Fai vedere se si vede Ilaria 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 Devo girare il video Eccola qui Ilaria 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 Saluti almeno nel video Saluti per favore Ilaria 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 è velenosa l'acqua no a rifarlo che ti ho detto che l'acqua è velenosa basta non voglio non voglio non voglio si ho perso che hai fatto? oh mio oh mio perché che hai fatto? no che cos'era? che vuol dire hai perso? era un prezzo cioè tu mi stai tipo ignorando ma io riuscito vabbè tanto ora andiamo a fare il video vero? andiamo a fare il video ora andiamo a parte che sei tutta bagnata con l'acqua è velenosa guarda che muore quindi ragazzi cioè io dovrei mettere questo video sul canale fai il balletto di fortnite ehi 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 uuuuh ehi bici ehi bici ehi e quindi la è tutto bagnato e io che schifo oddio stavo quel casca cioè è fragico cioè quindi io questo video lo dovrei mettere sul canale Quindi ragazzi per questo video è tutto Io vi ringrazio Yayao mi ha fatto il prank Mi ha fatto il prank più brutto della vita E niente Ora devo registrare Brutta Yayao Scrivetevi a tutti Hashtag Yayao Brutta Saluta Chiudi Con la mano Ciò Prova A fare Il prank Uccidi Questo è quello che succede Dopo che Simone Oltre a subire il prank Deve fare Pulire Yayao Non ti sei regolata Mi ha detto Simone che gli hai fatto un prank cattivissimo Per farli Giustamente io questo Avevo un'ora Sì Infatti il cioppio è che si croda Voglio dire Tanto te sei nudi Mi interessa Se te sei sporca E schifo Un bu Cos'è lui Un bu Un bu Asciutto il bu Cosa vuoi? Cosa vuoi? No Regà Fermi Sì 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 Sì